pronti per la sagra di stignano una simpatica frazione del comune di caolonia dove ci hanno detto che forse arriva la navetta sono 35 minuti che aspettano la navetta ma si forse arriva la tipica tranquillità meridionale che forse ha ragione loro forse siamo noi il trenino della gioia è arrivato il trenino con un'annessa colonna sonora di dubbio gusto sarà una tragedia stasera sono tutti così concentrati a guardare il trenino che nessuno ha guardato la cosa più importante il punto di ristoro numero 10 forchetta salsiccia gusto e le pancette di maiale zuppa di fagioli e salsiccia patatine fritte per no gratite bibite varie solo quello interessa solo per per aver respirato dell'ottimo gasolio puro eccoci arrivati finalmente dopo la impervia salitella di viale dei amici si ed eccoci arrivati finalmente a ma stignano beach come sapete se c'è già stato ma si anche lei c'è stata vero ma si poi ci hanno portato a palacanica facendoci credere che siamo a stignano oppure io faccio già stato comunque respirato così tanto di gasolio su quel robo lì che mi verranno tre tumori grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.